Grazie. Sfortunato ieri record Regal, un cavallo ha pagato una cifra vincente, oggi ancora lui il favorito. Regaloppo il 13, utrillo spin, va al comando facile e ultrasuono oral nei confronti di Okavango B con a largo Regal record. I cavalli sono al completamento del lancio che se ne va in 13,8 e viene a chiedere strada il buon fratello pieno dell'Omino, cioè Salvatore Luongo, con il suo Regal. Si va al completamento del quarto iniziale, quarto iniziale che se ne va in 28,8, passa dopo un po' di spesa ma voleva andare al comando e là è. Per linee esterne Okavango B che poi parcheggia, 600, un po' alle alle per la categoria, 42,9 da 1,11,5. Per linee esterne vediamo Tenebroso al comando, invece Record Regal che è il favorito di questa corsa. Mezzo miglio, 58,4, Cavalli che affronta il penultimo rettirino e riparte Record Regal e mantiene netto al comando. Si distende bene il Regal di Salvatore Luongo che completa il chilometro notevole in 13,3. 500 alla meta, in fuga a palo lontano, Record Regal, secondo il Tenebroso, frazione notevole ancora in 14,2. Il record ha il comando in seguito da Tenebroso. Si va al completamento della curva finale, Reti e il Cord Regal ancora a buon margine, riparte. E' quello che ha perso ieri con gli interessi, li guadagna oggi. Per il terzo, Okavango B, quindi bella vittoria cost to cost di Record Regal, secondo un ottimo Tenebroso e terzo, Okavango. Salvatore Luongo, il fratello pieno dell'Omino, Lometto, vince questa corsa per aspiranti allievi, 1,95 in chiusura. E con questa bella vittoria salutiamo Valerio e Pierfrancesco, dallo studio centrale e da Napoli, con me sempre prezioso per i suoi consigli e per gli acquisti, Emilio. Buonasera a tutti, in linea alla regia. Buonasera a tutti, in linea alla regia.